bella a tutti grazie e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su untarned e andremo a caccia mi sono procurato un fucile in museli e oggi andremo a uccidere i cervi dai quei cosi di wrong version allora useremo due cose la pelle non la prendiamo perchè ci sanno solo il cibo io mangio e basta allora ci prendiamo tutte le frecce più possibile e la nostra bellissima palestra che ho modificato con un miglior mirino da palestra non da cecchino perchè ce l'ha il bonjour il mio bonjour il bonjour sono le pallottole del fucile e appunto andiamo a uccidere i cervi perchè no che mi stanno sulle scatole anzi sono bellissimi animali solo che devo mangiare allora andiamo per il bosco prima ne ho ucciso uno allora quello la non è un cervo è un maiale il maiale mi lascio in pace sono contro i cervi oggi ok potete notare un maiale che si sta allontanando perchè mi ha visto il fucile in mano allora parlo a bassa voce perchè ecco ecco e li devo andare e li devo andare da davanti osserviamolo lo vedete la secondo me è un maschio ma li vado più vicino per non sparcare colpi non si so mai se mi vede sono morto e non mangio allora un po' più vicino perchè ce l'ha lì la testa se li prende un bel colpo sulla mascella ucciso ok ok così ok 1-1 e il colpo della vittoria è ucciso che scena poveretto 2-1 e le 5 3 e le 5 3 usiamo gli altri due colpi ora perchè io continuo ad andare avanti spero di trovare qualcosa ecco ecco vediamo l'esemplare che pascola allora ammiriamo la testa ho preso anche questo beh a tutti i ragazzi oggi sono convinto di farcela un bel giorno di caccia così ok l'ultimo cervo poveretto la c'è il nostro maiale che non ha voglia di uccidere ecco ho visto il cervo allora di là è carino e lì c'è il cervo lo vedete? in vista proprio non dovrebbe mettersi in vista così però cavoli suoi se muore ok vedete anche dal mirino che mira sto mirando ok l'ho visto ce l'ho sottopugno e se glielo do con la freccia? no si così è giusto un po' più vicino senza farlo scappare nell'erba stai ok così così è preso e non ho più colpi del fucile spero che vi sia piaciuto questo episodio di caccia a sti poveri cervi ora useremo questo tada 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 11 di carne e ora me ne torno a casa e monto il no dai non lo uccido e monto il mirino telescopico a questo balestra questa balestra allora praticamente cosa voglio fare? voglio fare una bella balestra con un bel mirino che forse riuscirò a trovarlo 20x, 16x spero così non è che se sparo poi non l'ho neanche ucciso perchè non mi miro bene non riesco a mirarli la testa sparo solo un colpo così ecco e adesso dobbiamo uccidere qualcun altro con la nostra balestra il nostro maiale e la mia isola è quella è la mai è la mai mai è la mai ecco torno a te che cosa maia ancora voi molte stelle sembrano stelle 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 a il musin e il musin facciamo una roba quattro tolgo il mirino a questa e qua e qua le metto ecco poi prendo il muso e metto il mirino con eeeh fico fico di me allora mettiamo il nostro muso e qui metto allora devo cuocere la carne perché sennò voglio di fame che furbo che sono non ho neanche preso non ho neanche preso allora prendiamo questa qua ne prendiamo quattro secondo me allora accendiamo il fuoco andiamo in crafting e mettiamo queste qua selezioniamo il fuoco e ci craftiamo io li lascerei via qua ok forse così basta no oh le mie frecce no 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 allora i bulloni se ce ne sono altri guarda che grazie a dio perché i bulloni servono tantissimo se ce ne sono altri se ce ne sono altri faccio quello lì perché perché sono bagate sono bagate sono bagate sono bagate ma non si può vabbè a me duck tea or 25 frecce andiamo subito alla riscossa di questi poveretti animali ma prima beviamo perchè io toscete 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 io ho maico gasete e gasete e gasete e gasete allora beviamo mangiamoci beviamo 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 amico mio copò cioè far rumore prima che la beve ci sbeviamo bene tutta l'acqua e la droppiamo lì andiamo a caccia di cerchi guardate che bella visuale comunque servirebbe anche un bel fucile da cecchino che forse mi andrò a trovare se non morire se non morire perchè nell'altra modalità io la uso come per le risorse quando trovo un bonjour clip che sarebbe il mirino per la musim quello la non lo ricordate l'ho appena usato quello l'acqua che mi ha usato tutto il mondo non so se mi uccide nulla guarda c'è un griacano no queste no oh e mi hanno alzato la reddittività però no ho visto qualcosa mi sembra un gabbro si è un gabbro lì no ok io osservo con questo video può essere tutto ricordate di mettere un mi piace iscrivetevi e al prossimo video ora spero di tornare a casa perché se mi perdo sono casino di tornare indietro ricordatevi di mettere qualche commento su cosa potrei fare in questa modalità se volete ma tanto so che non lo farete perché boh e ricordatevi che io i video li faccio quando ne esco ogni due giorni se me ne escono tre, due io li faccio ma per colpa di questa bellissima rete vero eh vai me spero e per colpa di questa bellissima rete non riesco a caricarli allora ricordatevi di iscriviti dice un diamante di eh e al prossimo video io vado in casa mia mi metto sul letto faccio la pipì e alla prossima prossima vi saluto anche il mio inviato ciao 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 ciao